Dicono alcune leggende che molti ebrei, discendenti da quelli che furono espursi, conservino le chiavi dell'antica casa siciliana, lasciata con la morte nel cuore, per tornarmi. Una vecchia chiave, passata da una generazione all'altra, le leggende hanno sempre un fondo di verità. In realtà è vero che si sono tramandate queste chiavi, che consentono di entrare nello spazio degli affetti, dei sentimenti, negli spazi dell'anima e delle tradizioni e della memoria. Le chiavi che aprono le case del cuore sono i canti. Di canto in canto, di donna in donna, la casa vive nel secolo. Le chiavi che aprono le case del cuore sono i canti. La chiavi che aprono le case del cuore è la persona. La chiavi che aprono il cuore è la persona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.